Con Federico Trullio, nickname Goditela, cerchiamo di approfondire quanto è importante il fitness, l'attività fisica per un giocatore professionista di poker che passa molte ore al tavolo davanti al PC. Certamente, diciamo che io fin da ragazzo sono sempre stato abituato a fare sport e quindi adesso che ho questa attività, questo lavoro, continuo anche per sfogare quella che può essere la tensione, lo stress di questa attività. Solitamente la giornata si organizza svegliandosi a metà mattina, facendo una leggera colazione, insomma in questo periodo vado in palestra, può essere che i mesi prima dell'estate vada in piscina, cioè l'attività può variare e faccia un'ora, un'ora e mezza di attività fisica, dopo magari mi trovo con qualche collega, vado a pranzo con loro e per le due, due e mezza iniziamo a lavorare più rilassati e con la mente più sgombra, si ha in pratica una specie di pausa, poiché finiamo molto tardi la sera, la notte, quindi ci si sveglia invece di ricominciare subito e mettersi sul PC è comunque un lavoro in cui sei seduto, è un lavoro sedentario, in cui comunque insomma bisogna, l'attività fisica secondo me è strettamente correlata e aiuta tantissimo in questa attività. Ci sono degli esercizi di stretching, delle attività che fate magari durante la sessione, se c'è il collo che ci dà problemi? Personalmente, personalmente ho riscontrato che il cliccare tanto il mouse, almeno a me, crea dei piccoli problemi al polso e quindi adesso ho intenzione di comprare un mouse di quelli ergonomici, di quelli un attimino che rilassino di più la mano, finora ho usato, ne ho spaccati tanti, usavo mouse da 4 euro, adesso avrei intenzione insomma di comprare un oggetto un attimino più di qualità superiore insomma, perché appunto con i tendini e tutte queste cose cliccando 8 ore al giorno insomma man mano queste cose vengono fuori, però insomma se la caviamo andiamo avanti comunque insomma. Perfetto. 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 Grazie.